L'ufficio di pubblica tutela nasce da una proficua collaborazione tra il Tribunale e Città Metropolitana e opera a supporto delle persone sottoposte a misure di tutela, quindi in situazioni particolarmente fragili rispetto agli interessati ed ai loro familiari. Copre un'area grigia rispetto all'attività più propriamente giudiziaria del Tribunale in materia civile penale ed opera quindi in un ambito al senso amministrativo rispetto a situazioni particolarmente delicate e in cui maggiormente gli enti territoriali e lo stesso Tribunale si trovano a raffrontarsi rispetto a situazioni e persone non adentro alle questioni giuridiche. Funziona quindi in una sorta di filtro tra la popolazione e le sue esigenze e l'attività del Tribunale di per sé strutturata rispetto alla giurisdizione e quindi non acconcia a fornire una forma di supporto alla cittadinanza, è quella parte della cittadinanza particolarmente fragile. Sono sicuro che l'istituzione dello sportello non potrà che migliorare i rapporti tra la cittadinanza e lo Stato alleggerendo d'altra parte le cancellerie di un'attività che non è propria, quale quella del supporto alla utenza.